Ciao ragazzi, oggi vi parlo del set 76095 Aquaman Black Manta Strike Black Manta colpisce, che è uno dei storici nemici di Aquaman Allora, questo set è uscito in concomitanza con il film di Aquaman nel 2018 naturalmente io acquisto e poi come sempre metto via e poi dopo mi sveglio ogni tanto e mi ricordo di montare i set Allora, a differenza degli amici della Marvel, la DC butta fuori meno set nei suoi film nonostante ci sia stato questo grande progetto di imitazione degli Avengers per cui ad esempio Wonder Woman è andato molto bene, Aquaman è andato benissimo è andato meno bene naturalmente Justice League con un po' la trama che non reggeva il Flash un po' bambinino, bambinone, personaggi non proprio riusciti Ben Affleck devo dire che mi è piaciuto come Batman quindi visto poi che adesso hanno dato in mano a Pattinson vedremo cosa succederà mamma, detta sincera, ecco una cosa strana è che comunque la linea Super Heroes DC butta fuori tanti set di Batman o di Superman sulla Justice League, detta sincera o anche sul discorso qua di Aquaman ha messo fuori solo un set quindi, vabbè, è un po' riduttivo dire che ci sono solo i tre personaggi principali naturalmente vediamo qui Aquaman, Mera e Black Manta abbiamo qua, dalla parte di qua, la scena di Aquaman con l'attore Momoa che devo dire ha impersonificato molto bene il personaggio anche con il restyling naturalmente della classica tutina arancione non è stata fatta quella di Aquaman con il cavalluccio marino è stato fatto un po' più cattivo diciamo come si suol dire e seguendo naturalmente la linea un po' Marvel passiamo al set allora abbiamo il sottomarino, il veicolo di Black Manta che assomiglia appunto a una razza tutto nero è anche fatto bene, adesso qua non si rende bene l'idea di quella che è la parte posteriore che è la coda però devo dire che secondo me non rende l'idea l'immagine vabbè, abbiamo uno squalo tanto per raggiungere un comprimario nel mondo sommerso avrei voluto magari vedere qualche altro personaggio marino, un mostro marino in più per aumentare la giocabilità abbiamo appunto Mera che è il comprimario di Aquaman e Black Manta ecco, una cosa che mi piace particolarmente è il casco di Black Manta poi andremo a vedere un po' come è fatto anche se il personaggio secondo me nel film aveva un ruolo un po' minore non veniva apprezzato ecco qua vediamo l'immagine naturalmente Aquaman col tridente Black Manta con questa spada e vabbè Mera che ha questi raggi adesso non mi ricordo bene il film perché è passato un po' di tempo aspetto di rivedermelo quando passerà in DVD o in televisione qua come sempre abbiamo la parte retro della scatola in cui abbiamo un po' la simulazione del gioco con lo scontro fra i tre diciamo protagonisti abbiamo gli occhi laser di Black Manta contro il primo tridente di Aquaman abbiamo il nostro squalo che interviene ad aiutare abbiamo un tesoro da recuperare e qua si nota un po' di più forse l'immagine del retro appunto della razza abbiamo un attimo la simulazione che ha come in comanda gli animali, i pesci abbiamo l'apertura e chiusura del nostro diciamo veicolo marino lo squalo che si può incastrare sull'alba per rendere un po' l'idea del fatto che nuoti abbiamo i classici missili alla Star Wars che ormai sono onnipresenti in tanti set abbiamo il pezzo che può essere lanciato ma è un'impresa lanciare questi pezzi perché sono abbastanza eccastrati e poi naturalmente abbiamo un cannone a sei colpi che ricorda un po' Star Wars con i veicoli che sparano niente è un bel set non ha avuto quotazioni diciamo eccessive si comprava se non ricordo mai 35 euro ancora adesso si trova sia sulla baia sia in giro a volte anche nei negozi perché come sempre ripeto la linea DC è un po' più diciamo scarsa nonostante questo fosse un bel film devo dire che a me è piaciuto tantissimo sia per effetti speciali che quant'altro però non parliamo di film parliamo dei set adesso procedo all'apertura e vediamo un po' tutto quanto pollice su come sempre ragazzi ciao